Abbiamo individuato una struttura IM vulnerabile. Sebbene sia protetta dai sintoidi di sicurezza, presumiamo che gli Avengers possano trionfare facilmente. Sebbene, eliminate tutte le forze IM incontrate. Dirigetevi verso il luogo segnato sull'interfaccia. Una passeggiata! O una corsetta! Potrebbe essere uno scioglio per te! Ci vogliono sia la carota che il bastone! Ci sono dei... non amici! Gli occhi ti ingannano! Dovete sconfiggere quei nemici. Non... No, non mi parte! Non vediamo! Non so, non... Non so, non è vero! Non so, non so! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Allora è vero che fai... Sì! Sì! No! 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 Vieni con un tiro! No! A chi va? No te lo senti? No! 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 I nemici sono stati sconfitti. Non ne vedo più! Bel lavoro, Avengers. Non sarà l'ultimo assalto sferrato contro le forze dell'A.M., ma ha indebolito molto le loro capacità.